Una strada maledetta, una strada pericolosa, perché veloce, perché in parte dissestata, con un asfalto irregolare che perde pezzi, con carreggiate forse troppo strette e persino scivolose, con quei segnali che, pur evidenziando pericoli e limiti, appaiono incapaci di risolvere soli i guai della SP53 che collega Francavilla Fontana con Sava, le province di Brindisi e Taranto, per molti la strada del mare, per tanti la strada degli incidenti, tanti registrati in questi primi giorni del 2023, l'ultimo nella notte tra sabato e domenica con un'auto finita fuoristrada, ribaltata contro un albero d'ulivo, a bordo quattro giovani, a bordo la quattordicenne di Sava ricoverata in gravissime condizioni, in rianimazione al Santissima Annunziata di Taranto e poi il giorno dell'Epifania con un'altra auto ribaltatasi dopo una carambola nelle campagne, al centro della carreggiata, su quell'asfalto vicido, rovinato, privo di una linea di mezzeria che specie di notte, specie con la nebbia, diventerebbe un importante punto di riferimento. La ricognizione sulle strade provinciali del Brindisino parte proprio da qui. La competenza resta della provincia, ma anche il Comune non cercano scuse da Castello Imperiali, ha una responsabilità, quanto meno morale, per una delle arterie più trafficate dell'agro. Intanto vorrei esprimere un pensiero di vicinanza alle persone che sono rimaste coinvolte in queste sinistre stradali e fargli auguri di una pronta guarigione. rispetto agli interventi che sono di competenza del Comune di Francavilla Fontana, la premessa è che il nostro agro è molto molto vasto, in alcuni casi arriviamo letteralmente al ridosso dell'ingresso di comuni vicini, però proprio perché abbiamo il dovere giuridico ma anche morale di provare a prevenire certi episodi, stiamo intervenendo in maniera organica sul nostro agro e sulle strade dissestate, in particolare con un intervento di asfaltatura delle strade bianche grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto proprio per la messa in sicurezza del territorio. Dall'altra parte abbiamo avviato un'interlocuzione con altri enti, a partire proprio dalla provincia di Brindisi, per la messa in sicurezza di tratti di strada che non sono di nostra diretta competenza ma rispetto ai quali non ci gireremo certamente dall'altra parte. Strade maledette, strade pericolose, il tour in giro per la provincia di Brindisi non finisce qui.